grazie ai fondi europei hai fatto crescere la tua idea imprenditoriale mandaci un video e partecipa al concorso nelle marche l'europa è darai visibilità alla tua attività e potrai diventare testimonial della campagna di comunicazione del fondo europeo di sviluppo regionale della regione marche scopri come partecipare su www.europa.marche.it ai tempo fino al 30 luglio seconda edizione del mercoledì degli artisti iniziativa organizzata dai locali fanesi con il supporto del comune di fano l'orchestra sinfonica rossini ha messo a disposizione il proprio ufficio stampa per promuovere e a fare degli approfondimenti artistici in merito a questa iniziativa l'iniziativa si basa sulla buona volontà dei locali della nostra città a partire da uno soccolo duro di tre punti piazza andrea costa con senza tempo piazza 20 settembre con bardan e degusteria e il pincio con il monnalisa questi locali da sempre organizzano attività musicali a loro si aggiungeranno tutti i locali che vorranno aderire a questa iniziativa appunto godendo del supporto del comune di fano nel primo giorno il 9 giugno il primo mercoledì in cui partirà questa iniziativa avremo anche la mandria e il curcuma caffè un grande successo già dallo scorso anno in pieno stile fanon plein air ritorna anche quest'anno il mercoledì degli artisti un grande progetto insieme all'attività economiche della città insieme all'orchestra sinfonica rossini che da una parte valorizza gli artisti della nostra città e del loro lavoro dall'altra parte il lavoro che stanno facendo le attività economiche quindi una bella sinergia per la nostra città che darà valore anche a questa fanon plein air con gli spazi a cielo aperto che sono stati presi dalle attività economiche grazie ai fondi europei hai fatto crescere la tua idea imprenditoriale mandaci un video e partecipa al concorso nelle marche l'europa è darai visibilità alla tua attività e potrai diventare testimonial della campagna di comunicazione del fondo europeo di sviluppo regionale della regione marche scopri come partecipare su www.europa.marche.it hai tempo fino al 30 luglio